Siamo a San Remy in Bosco con Luca Piccinali. Luca si attacca il capitano oggi. Non pensavo neanche di finirlo però dai. Dove è Silvia? Dai, non pensavo così. Bene bene, spero da me più di perché? Luca Piccinali che va a caccia di un posto d'alta classifica. Allo suo spalle niente meno che Oliviero Bosatelli.